Ciao ragazzi, oggi questo video super 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 speciale, un nuovo video ASMR, ne avevo fatto uno tempo fa, ma questo è diverso perché questo è ASMR, solo cibo in più migliorato rispetto alla volta scorsa. Da notare ho anche le cuffiette perché me le avete consigliato voi e devo dire che è molto molto utile potersi ascoltare mentre si registra un ASMR. Nei video quando sussurro mi dite spesso che la mia voce va bene per gli ASMR, che vi piace e che è rilassante, quindi vi auguro che questo video vi piaccia. Anche se è diverso dalla mia solita tipologia di video, ma naturalmente se vi piace continuerò a farli, fatemi sapere. Non sono super super esperta di ASMR, ma spero di aver selezionato i cibi giusti, è tardissimo, è l'una e tredici minuti di notte, ma mi fa proprio di fare uno spuntino perché ho super super fame. Allora, la prima cosa che mangeremo sono i fonti. ... ... ... ... ... Erano secoli che non mangiavo i fonzis E ultimamente mi è tornata questa voglia, sono buonissimi Non mi piace, non mi piace, non mi piace Rito perché penso che se qualcuno non conosce gli ASMR e questa tipologia di video deve essere molto bizzarro e comico vedermi filmare un video del genere ma io da quando li ho scoperti non riesco più a fare a meno di questa tipologia di video e mi aiuta tantissimo a rilassarmi la sera prima di andare a dormire quindi so che piacciono tanto anche a voi anche se è strano per me che sono abituato a parlare a mille all'ora nei miei video anche durante i mukbang mentre mangio invece questa tipologia di video è molto più rilassante, molto più zen mi piace e stranamente mi piace tantissimo anche sentire già l'SMR nelle mie cuffiette è super rilassante quindi mi diverto sia a filmare che a mangiare che ad ascoltarmi mentre registro quindi è fantastico direi ad ascoltarmi ad ascoltarmi ad ascoltarmi a adesso di passare a qualcos'altro ho preso i Coco Pops e quindi visto che fanno pop anche se non li mangeremo con il latte ho pensato che potesse essere interessante per l'SMR quindi proviamo a scracchiarli così sono l'unica a scanocchiare i cereali anche così direttamente dalla confezione non sempre li mangio con il latte forse sono l'unica ma a volte li prendo direttamente dalla scatola e li mangio così come fossero patatine è strano forse sono l'unica non ho mai sentito di altre persone che lo fanno forse sono l'unica ma non sono male anche senza il latte provatelo un po' della mia acqua un po' della mia bottiglietta preferita altra cosina che vorrei provare con voi e poi sono curiosa di sentire i vostri pareri e tra tutti i cibi che andremo ad assaggiare voglio sapere quale vi è piaciuto di più adesso è turno per lei tic tac anche queste non le mangio da secoli e non ho trovato più il pacco piccolino adesso sono tutti giganteschi penso saranno interessanti per questo nostro smr penso saranno interessanti per questo nostro smr però è certo che un po' di buon Adesso mi sono super super rifrescata con queste tic tac alla menta, molto buone, poi vorrei andare con voi Questo ragazzi lo considero il pezzo forte di questo video perché l'ho cercata in lungo e in largo ed è, si chiama il favo di miele in italiano, almeno così c'è scritto, miele di acacia in favo Ed è il famosissimo honeycomb che tutte le ragazze mangiano nei video ASMR, almeno presumo sia questo L'ho trovato al supermercato e da lì mi è venuta l'idea di filmare questo video Teoricamente dovrei toglierlo dalla confezione, prevedo un po' un disastro, ma deve essere buonissimo Ok, effettivamente è super appiccicoso, ma ragazzi il profumo paradisiaco Ok, effettivamente è un po' un po' un po' un po' un po' un po' E' un po' un po' ma un po' un po' un po' un po' un po' un po' leggo Ha un po' un po' particolare, però non è come mangiare solo il miele Grazie. è molto buono ragazzi anche se sto facendo un po' un disastro se mi sono rovinata a rossetto perdonatemi non riesco a vedermi allo spicca poi altra cosina che abbiamo li ho cercati in lungo e in largo sembravano intrufabili e poi all'ultimo sono riuscita a trovarli e sono questi animaletti c'è un cagnolino un maialino poi abbiamo cosa sarà questo un gallo suppongo e poi una rana fatti di zucchero numero uno sono buonissimi e io li adoro ne mangerei a chili numero due secondo me per il nostro smr possono essere interessanti vediamo in l'un in 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 l'un in in ... Devo dirvi La verità solitamente non mangio con la bocca aperta ma noto che così facendo si sente meglio il suono Ma fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente nei commenti se posso migliorare in qualcosa Lo farò e voglio ascoltare i vostri consigli La verità solitamente non mangio con la bocca aperta ma noto che La verità solitamente non mangio con la bocca aperta ma noto che Visto che mi piacciono così tanto Mangeremo anche il cagnolino Sto facendo un pieno di zuccheri in questo video pazzesco Un po' di zuccheri in questo video pazzesco Un po' di zuccheri in questo video pazzesco Poi il prossimo cibo Un po' di zuccheri in questo video pazzesco Ho trovato i macarons Che uno sono buonissimi E due secondo me anche questi possono essere interessanti Sono strani perché sono gialli Ma sono la vaniglia Sono parecchio giganti Che un po' di zuccheri in questo video pazzesco 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 Pazzesco E a questo punto Ho giusto in fondo Una delle mie cose preferite al mondo Ovvero Le caramelle gommose Sono la cosa che preferisco da sempre Potrei mangiarne a chili Non sto scherzando purtroppo In particolare I miei preferiti sono i Jojo Ritz Della Fruitella Ragazzi provateli In particolare Mi piacciono perché sono Super frizzanti E più buoni Sono quelli Al limone Un po' di zuccheri 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 Sì, è molto bello. sono alla fine del mondo devo forzarmi a metterli via perché sono troppo buoni ho fatto seriamente il pieno di zuccheri ma mi è piaciuto molto filmare questo video con voi e fare questo scarro di mezzanotte con voi questo è tutto per oggi mia femmini spero davvero spero davvero che vi sia piaciuto questo video che vi abbia rilassato quindi io vi auguro buonanotte buona giornata a seconda di quello che state facendo scrivetemi nei commenti come al solito tutti i vostri consigli i vostri pareri se vi è piaciuto il video e lo sapete li leggo sempre a tutti quindi non appena carico un video sono sempre lì a leggervi quindi un bacio grande della mia femmini mi voglio tanto 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 bene e noi ci vediamo domani con uno A volevo anche accennare che ieri mi scuso se non ho caricato un video ma per recuperare ce ne sarà uno questo sabato in via eccezionale bacio a domani ciao 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 ciao